Mi bacia il primo ragazzo che incontro Bello questo ascensore L'acqua sia un bene comune pubblico, dalla sorgente al mare, e deve tornare a essere tale. È la posizione del Movimento 5 Stelle riguardo appunto alle riserve idriche che all'epoca della Commissione Rodotà vennero definite beni comuni, ossia cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona, ma che debbono anche essere tutelati dalla legge a beneficio delle generazioni future. Del resto, l'acqua, dal 2011, anno del referendum, è riconosciuta come risorsa collettiva da gestire al di fuori delle logiche di mercato. Nel 2018 il primo governo Conte provò a fare una legge in tal senso, ma non passò. Il tema dell'acqua pubblica, gestita direttamente dai comuni, è stato affrontato ieri presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cavalettirreni in un incontro pubblico organizzato dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle in collaborazione con altre forze di ispirazione progressista. Tra i relatori Rosa Rinaldi, di Unione Popolare, Sergio Marotta, professore di sociologia giuridica, Bruno Miccio, del gruppo 183, e Vincenzo Belgiorno, già direttore dell'ente idrico Campania, hanno cercato di analizzare l'attuale situazione nella regione. Improvviso forfè di Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati, e di Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle. Moderava Giuseppe Benevento. Noi nel 2011, in seguito a grosse sollecitazioni popolari, abbiamo avuto un referendum del giugno 2011 in cui si è manifestata la volontà, con una grossa partecipazione pubblica, che l'acqua non fosse oggetto di compravendita, nel senso che non si facesse interessi privati sull'acqua che è bene pubblico, perché l'acqua è bene pubblica dalla fonte al mare, poi c'è in mezzo tutta una parte di gestione. Perché non una legge? Dopo il 2011 si è provato a livello parlamentare, con un intergruppo costituito da varie forze politiche, a portare avanti una riforma di iniziativa popolare. Non si è riuscito, perché molte forze politiche contrarie hanno proposto molti emendamenti, 260 emendamenti, che hanno fatto sì di rimandare ciò che era invece lì per essere realizzato. Però noi rimaniamo sul pezzo e stiamo battagliando, perché una delle nostre stelle, che è l'acqua pubblica, sia realizzata. Com'è la situazione attuale in Campania per quanto riguarda la gestione dell'acqua, come è bene pubblico? In che direzione stiamo andando? La legge 15-2015 ha riformato il servizio idrico integrato nella regione Campania, ha diviso il territorio della regione in sette distretti e in questi sette distretti si stanno completando le procedure di affidamento per l'initulazione del gestore unico. La norma è allineata al testo unico ambientale, alla norma nazionale, che prevede un gestore unico per l'intero ciclo delle acque, dalla captazione al trattamento depurativo e l'eventuale riutilizzo. Professor Marotta, docente di sociologia giuridica. C'era stato un referendum che nel 2011 aveva stabilito che l'acqua era bene comune, pubblico. Non si è fatto ancora abbastanza per ottemperare a questo dettame? Devo dire che si è fatto pochissimo, anzi si è fatto pochissimo per ottemperare ai risultati del referendum del 2011. Anzi, si può dire che dopo due o tre anni in cui il governo non ha più legiferato sulla materia, poi ha ricominciato come la legislazione è cominciata esattamente così come era prima, cioè andava verso forme di applicazione del regime di libera concorrenza anche in un settore come quello dell'acqua, che è un settore cosiddetto di monopolio naturale. Quindi il mercato e le sue regole non possono in qualche modo regolare le esigenze sia del pubblico sia le esigenze ambientali. Dottoressa Rosa Rinaldi, Unione Popolare, cosa bisognerebbe ancora fare affinché l'acqua sia davvero un bene comune pubblico? Beh, intanto bisognerebbe rispettare la volontà popolare che si è espressa in un referendum importante sull'acqua pubblica, quindi tanto quello che fino ad ora non è stata sufficientemente rispettata. Poi bisognerebbe tornare a considerare l'acqua come un bene comune e non una merce. Oggi è merce perché dalla captazione dell'acqua all'imbottigliamento diventa un bene prezioso per chi può permetterselo e quindi non si curano poi le sorgenti, l'acqua potabile e tutte le attività che vanno fatte sugli acquedotti. Quindi per noi l'acqua deve tornare ad essere un bene comune, come abbiamo chiesto nel referendum, e soprattutto essere gestita direttamente dai comuni, come era una volta, non invece da aziende che prosperano appunto su un bene comune che viene poi riservato a pochi.